L'emergenza Covid non ferma la prevenzione in materia di altre emergenze, come terremoti, maremoti e alluvioni. Per questo la Protezione Civile della Toscana ha deciso di trasferire su 74 piazze virtuali la campagna di prevenzione nazionale Io Non Rischio, che abitualmente ha invece sede nelle piazze reali. L'incontro digitale tra volontari di protezione civile e cittadini, con video e dirette social, ha coinvolto ben 872 volontari e 142 associazioni. Cuore organizzativo di Io Non Rischio, la sede della Protezione Civile regionale a Firenze. Capillarità di presenza, grande passione, un forte lavoro di formazione, quasi 1000 volontari sono stati formati attraverso corsi a remoto di grandissima professionalità e efficacia. Insomma un sistema di protezione civile che di fronte ai disastri idrogeologici, ai sisma, agli incendi, a tutto ciò che significano calamità, riesce con efficacia ad essere presente e pronta. I 13 formatori toscani della campagna Io Non Rischio hanno istruito sui corretti comportamenti da seguire in caso di emergenza quasi 1000 volontari. Che stamani sono in piazza per comunicare ai cittadini, in questa nuova forma digitale, le buone pratiche di protezione civile. I contenuti non cambiano, abbiamo però utilizzato quest'anno sia in formazione che oggi nelle piazze questa nuova forma di contatto digitale con la popolazione. Dopo il collegamento video con il capo dipartimento della protezione civile nazionale Angelo Borrelli, il presidente della regione toscana Eugenio Gianni ha visitato la sala operativa unificata, dove vengono anche gestite le allerte meteo con i diversi codici giallo, arancio e rosso. E proprio in funzione di questi codici colore tutti devono adeguare i propri comportamenti. Quando diciamo tutti si va dal singolo cittadino che deve organizzare la propria attività, la propria vita e specialmente i propri spostamenti in funzione della gravità della situazione all'ente pubblico, l'associazione di volontariato che fa protezione civile, fino alle strutture regionali che ovviamente devono mettere in campo le procedure adatte ai diversi codici colori per i diversi tipi di rischio. Il non rischio si inserisce nella settimana del 13 ottobre, giorno scelto dall'ONU come simbolo della prevenzione dalle catastrofi naturali.